Io cerco di allenarmi, poi non sono l'allenatore, sicuramente cerco di mettere in difficoltà il mister, ma la squadra sta andando molto bene e questo è quello che conta. Giochiamo? È molto difficile? Sì, è molto difficile, però siamo consapevoli che siamo un'ottima squadra e adesso vediamo. Noi guardiamo partita per partita, poi alla fine vedremo se vinceremo la squadra o meno. Il tuo gol è un messaggio a De Biasi? Un messaggio normale, è un gol che non conta tanto e spero di farne altro. Mancini è un ottimo allenatore, soprattutto una bravissima persona, anche a fine allenamento andiamo, scherziamo, facciamo il cross e tutto quanto, quindi è un ottimo istruttore oltre che è un ottimo allenatore. Tante cose, devo imparare dalle persone che vanno davanti, però sono sereno. Non lo so, ci sono ottime squadre come Napoli, la Roma, però ricordiamoci anche la Juventus, anche il Milan è una buona squadra e la Fiorentina.